Nel Museo Oratorio di Santa Maria della Vita è stata inaugurata la mostra René Paresce, italiani a Parigi. La mostra si focalizza sulla figura di René Paresce, pittore, fisico, intellettuale del gruppo degli italiani a Parigi. Amico di Modigliani e Picasso, grazie a Mario Tozzi, anima organizzatrice, entra a far parte nel 1928 del gruppo degli italiani. A Parigi ha dipinto la maggioranza delle sue opere. La mostra si propone di ripercorrere il percorso artistico che per esce i suoi compagni compiono a Parigi fra il 1928 e il 1933, dal punto di vista pittorico ma anche letterario, economico e sociale. Una selezione di 73 opere scelte attraverso un'accurata ricerca storica e filologica, che ricostruisce l'importanza che ebbero les italianes nella sperimentazione tecnica e nell'abilità di unire il moderno con la tradizione. Innaugurata il 7 dicembre, la mostra sarà visitabile fino al 25 febbraio.